Nella terza giornata dei campionati europei di Taekwondo, in svolgimento nel pala di sfida di Barletta, sono state assegnate 15 medaglie d'oro nelle categorie di combattimento singolo senior dai 18 ai 39 anni e veteran over 40. Come spesso è accaduto sinora, la selezione russa ha fatto da padrona, conquistando ben 10 ori. Sei primi posti sono stati a pannaggio della squadra maschile. Subito dopo lo squadrone russo, sugli scudi la Grecia, tra le nazioni più forti in assoluto, con 4 medaglie d'oro, divise equamente tra le squadre maschili e femminili. Contrariamente a quello che indicavano i pronostici, oggi la Repubblica cieca ha conquistato soltanto un oro, dopo aver collezionato nell'arco della rassegna continentale di Barletta 5 ori e quasi due decine di secondi posti. Domani, nella giornata conclusiva dei campionati europei di Taekwondo, a Barletta verranno assegnati tutti i titoli di tecniche speciali e di combattimento a squadre.